A Expo Dental Meeting 2022 mi trovo con Nicola Bertolotto, amministratore delegato di Dür Dental. Per un Expo Dental è una tradizione ed è anche un'opportunità per poter presentare tutte le nostre novità, innovazioni e rinnovamento dei vari prodotti che produciamo come azienda tedesca. Semplicemente partirei dalla parte più innovativa, quindi dalla parte digitale che si vede alle nostre spalle. Abbiamo il nuovo Vista Scan Ultra che poi verrà anche presentato dai colleghi, è la linea di scanner e fosfori sul quale siamo market leader, abbiamo un'eccellenza costruttiva elevata. I nostri partner ci dimostrano sempre la loro fiducia e quindi abbiamo deciso di iniziare un nuovo prodotto top di gamma premium dedicato proprio a quei professionisti che hanno esigenze molto elevate in fatto di diagnosi, di performance e di affidabilità. Oltre a quello abbiamo deciso di ampliare la nostra gamma di prodotti con la linea tridimensionale. Il VistaVox è un prodotto che esiste da qualche anno sul mercato e che mantiene la filosofia e la tradizione d'Urdental, quindi eccellenza costruttiva elevata, qualità di immagine importante con anche una dimensione di volume dedicata e specifica per i professionisti più esigenti. Non ultimo per importanza è il software perché il software è la parte più importante per i professionisti perché ha fatto l'immagine, poi per la comunicazione e la diagnosi è importante avere un sistema facile, semplice da utilizzare e quindi Urdental negli anni e quest'anno ancora di più sta investendo sull'intelligenza artificiale. Quindi degli algoritmi dedicati e specifici per poter semplificare tutte le operazioni, le diagnostiche in modo tale da rendere immediato l'utilizzo e confortevole nel quotidiano perché chiaramente i professionisti hanno bisogno di strumenti che siano semplici e immediati. A questo c'è la linea di profilassi, Urdental ha rinnovato tutta la linea dedicata alle polveri e ai device in modo da poter dare anche con innovazione sulle polveri, quindi c'è un'evoluzione con una polvere più leggera, più solubile che permette di efficientare tutto il processo e di dispositivi dedicati, affidabili e robusti che diano tranquillità agli operatori, agli assistenti e agli igienisti che lo devono utilizzare. Quindi non mi rimane che invitare tutti i nostri partner e professionisti a visitarci e buona ExpoDental.